Tutto pronto, inizia il match tra i ragazzi dell'appoggio reale dell'altea di Govele Ennesimo classico del torneo San Nazaro Vediamo chi tra le due squadre riuscirà a preparire sull'altra Marino se ne va con un gran numero Prova il passaggio per Forte Casale tocca ma non basta Superazione di Antonio Marino Passaggio filtrante per Forte Che va a segnare il gol del vantaggio Appoggio al Real 1-0 Vai Dubito la risposta di Casale sulla bomba dalla distanza di Vittorio Marino Marino pala che non entra Palo interno Galoppa Anzi trotta sulla linea e termina fuori Incredibile Abbiamo scherzato Lauro prova ad andare Lauro Vabbè vabbè Dai vieni qua Non pari intanto a lui Andalbarro l'avversario Marino ancora con il suo mancino similante Palla che temi fuori Palla che temi fuori Ah no Troiano il mancino Marino larga bene per il fratello che incrocia Forte Casale Spazza tutto ciò che poteva essere spazzato Marino sfortunatissimo quest'oggi Ennesimo palo Se la prende con la sfera Marino spalle alla porta Ancora Antonio Marino Prova a girarsi se ne va Antonio Marino Palla per il fratello Vittorio con il destro Pallo anche per lui Non fortunati fratelli Marino Oggi con i legni E finisce Partita la ripresa Vantaggio appoggio real Contro i ragazzi dell'Atletico Vele Anche tre pali Per i ragazzi Maglia bianca Vediamo chi preparrà in questa ripresa Mamma un gol incredibile di Antonio Marino Premiato dopo tanti legni consecutivi Trova finalmente la via del gol 2 a 0 Per gli appoggiati Che poi uno porta sempre il motorino Ritornata alla macchina Val manico Ho capito La macchina E metta al traffico Eh Perché normalmente Farino Ti verrebbe da sgusciare Ma non puoi Marino Casale Che risposta Discepola Palla per Antonio Marino Che carica il sinistro Invece fa un assist Al fratello Casale Respinge E spazza tutto Poi la palla diventa buona Per Marinelli Che si allarga un po' troppo Occio ad Antonio Marino Con sinistro Casale Va giù E respinge subito I bagnati ragazzi Oh è matto Marino Scambio tra Radelli Vittorio Marino La bomba Palla alta Per Scandare Marino se ne va con un gran numero Occio a suo sinistro Alta Marinelli si gira Marinelli Amedeo Troiano E poi non riesce a ribadire Perché c'è un vittorio Marino Sulla lì No Luca Ma ti spudo in faccia Sei la persona più fatta Questa è vero Attenzione Marino Uno contro zero Casale Se giochiamo nel campo Quattro contro zero Arinelli E finisce qui Vittoria Due a zero Siamo con Antonio Marino Migliore in campo di questo match Buonissima vittoria Per gli appoggio a Real Due a zero Un filotto positivo Che momento è per voi? No Sappiamo che siamo Primi Grande vantaggio Rispetto alle altre squadre Questa attesta è molto complicata Vamos Però alla fine Vinciamo sempre Quindi sono contento Senti Questi appoggio Dopo La mancata di torre Dell'anno scorso Vogliono di non fare? Assolutamente Sì Ci rifaremo Cercheremo di battere Tutti e tutti Va bene In bocca